Ciao Vic, ora arrivano anche gli altri, arrivano subito. Ciao, stasera si parla di Into the Spider-Verse. Sì, ma lo sai perché mi è venuta questa idea? No. Federico oggi mi contatta e mi scrive questo. Cioè non mi scrive mai queste cose, mai. Ma non è che ho visto la tua reaction a Synergo sull'ultimo homo ragno l'ho scritto tutto attaccato? Pacato e simpatico, ma dici un bel po' di cazzate, così proprio per rassenerare gli animi. Un paio di cose sono anche vere, ma non hanno niente a che vedere col film in particolare. E allora tu diciamo... Io dico una cosa su Synergo che ho sempre pensato, io non sono mai d'accordo con lui, ma lo ascolterei lo stesso per ore. Allora io in realtà mi ci trovo spesso, però su alcune cose ha proprio una filosofia del cinema molto personale. E io non condivido mai il suo modo di vedere le cose, ma comunque mi piace ascoltarlo. Ciao Fede. Ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Allora, noi si può iniziare perché Mara arriva un po' tardi, ma noi si può partire tranquillamente. Come diceva Vic, questo cinema cult parte da, come l'ha chiamato Fede tra l'altro con me su Whatsapp, un instant cult perché è praticamente uscito in poco tempo col passaparola, con ovviamente la figura di Spider-Man che attrae sempre un certo tipo di pubblico, l'ha tratto anche come quella merda del coso, del crossover degli Spider-Man di merda, che ora non mi viene a me... Oncoming, no oncoming... No Way Home. 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 È stata sorprendente per praticamente tutti noi e in pochissimo tempo è diventato un cult, tant'è che si sono subito sbrigati a fare un sequel diviso in due parti, di cui ancora stiamo aspettando la seconda parte, chissà quando arriverà. Comunque faccio questo breve cappello, io come sapete ragazzi, uccidetemi pure, ero orfano di un film su Spider-Man perché i film che sono usciti dopo la trilogia di Raimi non mi sono piaciuti, già non mi era piaciuto il terzo di Raimi e quelli che vennero dopo non mi hanno mai colpito più di tanto, sì forse erano più rispettosi... Spazzatura. Forse erano più rispettosi del fumetto ma io quando vado al cinema voglio vedere il film. E invece le idee di Raimi che aveva utilizzato per realizzare il suo Spider-Man mi piacciono perché erano idee molto cinematografiche e lo apprezzai molto. E poi i film del Marvel Cinematic Universe, o comunque così per dire, non mi piacciono perché si vedevano che era un film molto derivativi e molto pezzi di un puzzle che già non mi piaceva molto e... e poi non ho apprezzato proprio il fatto di vedere un Iron Man mentore di Spider-Man, spesso era molto impedente nel film e il fatto che un ragazzino che dovrebbe essere in difficoltà ha queste difficoltà che non sono proprio difficoltà e viene aiutato da Iron Man quando in realtà Spider-Man si faceva molto da solo ed era quello il bello, il fatto che non veniva aiutato da nessuno e che se la cavava e sbagliava per conto proprio invece qua abbiamo un Iron Man e tieni la tuta, va tranquillo, va a posto... Sì, qui sbaglia ma sta per far saltare per aria tutta la classe con un missile perché siccome Tony Stark prima di morire è furbo, lascia tutti i suoi poteri a bimbo di 20 anni. E è furbo Tony Stark. E Raimi ti fa capire invece che l'unico errore che può fare un uomo ragno che sta scoprendo i propri poteri è prendere un vassoio della mensa e trascinarlo a giro oppure fa male un bimbetto perché non si regola ancora con la sua forza proporzionale di ragno. Oppure semplicemente stare con una donna come fa nel primo che deve mollarla. Che la molla perché lui è Spider-Man, ha delle responsabilità. Lui Spider-Man ha paura, deve crescere. Invece una mese in Spider-Man gli dice a quello che sta per morire, sì tranquillo non te la trombo la figliola come va via, finisce che gli fa l'occhiolino a media ora ti do tre corpi perché tu poi è morto, la tristezza di Peter Parker. Più che altro effettivamente poi se la tromba e muore. Tra l'altro gliel'aveva detto, però sì. Infatti muore come la tromba muore. Sì sì sì. La tromba anche muore. Poi sono in un cio questo Spider-Man animato, io non ero molto convinto perché c'era come protagonista Miles Morales, io non ho mai avuto in simpatia nei fumetti, però ho detto basta che mi facciano un bel film e io sono contento. Cosa hanno fatto? Hanno fatto forse il miglior Miles Morales dei media dedicati a Miles Morales, quindi l'ho apprezzato molto di più del Miles Morales videogioco, del Miles Morales fumetto, perché è pieno di insicurezze, ha tante paure, non si rende conto dei suoi poteri, è impacciato, impacciato in tutto, era molto Peter Parker. E poi vedere Peter, che è sì, è temprato dalle esperienze del suo universo e della sua età, perché ovviamente, però vederlo Corbuzzo in calzini con l'accappatoio, insomma a me ha fatto veramente tanta tenerezza e riescono a realizzare forse uno dei migliori Peter Parker di sempre, rendendolo non il Peter Parker Prime, come si dice oggi, c'è il Peter Parker al suo massimo splendore, ma il Peter Parker invece che ha lasciato, ha divorzi sulle spalle, tutto un po' depressino, bellissimo. E poi era bello, era bello perché urlava cinema da tutte le parti, urlava animazione da tutte le parti, cioè l'animazione veniva usata alla perfezione per realizzare delle sequenze veramente epocali, ora lasciando perdere la sequenza finale con tutti quegli effetti, quell'effetto retinato, quell'effetto bolla che si spacca dappertutto, le immagini che si interzacano, le gag, gli effetti sonori a schermo, le onomatopei proprio giganti. La possibilità anche di realizzare un design come quello di Kimpin allucinante, irreale da fare in live action, perché te non puoi fare un uomo così gigante con la mano che è grossa come un uomo normale medio new yorkese. E questa è veramente una delle cose più belle che mi ha colpito, cioè la possibilità di fare tutto. Questa animazione low frame che va a inseguire il fumetto ma allo stesso tempo rispetta perfettamente il cinema. Gli effetti visivi uno dopo l'altro. E poi l'umanità di questi personaggi, dal rapporto che ha lui con lo zio, che non è lo zio ben rincoglionito, ma è uno zio arpezzo che ascolta la musica jazz, mi pare, gli insegna a trombare le fie, lo porta a Famurales, che ha questo rapporto confittuale col fratello perché è uno sbiro ma si vogliono bene. Insomma, c'è tutta la città di New York effettivamente qui. Anche la scena struggente di Peter che va incontro alla morte, eppure anche lì pensa al bene delle persone e pensa anche al bene di Villain perché gli dice, Kimpin, non la troverai la tua famiglia, non la troverai. eppure Villainucci e lo sa che sta andando incontro alla morte. Stupendo. Veramente bello perché è Spider-Man, è cinema, è animazione allo stato puro, è arte allo stato puro perché tutti i creativi che ci sono dentro, tra l'altro anche tanti bravissimi italiani, la musica, cioè tu, la colonna sonora utilizzata è perfetta, sequenze che rimarranno nella storia del cinema come lui che si getta nella città e finalmente trova se stesso, il suo costume molto street, con la scarpina della Nike, con il logo fatto con lo spray, stupendo, veramente. A me è un film che mi ha colpito ed è diventato subito cult e poi io fan dell'Uomo Ragno da tempo, non di tutto l'Uomo Ragno, dei cicli fanno schifar cazzo, però di fan del personaggio ho apprezzato meravigliosamente tanto il film. Io ho fatto questo cappello introduttivo, ecco te però Fede volevi parlare di Sinergo, sono molto curioso. No, non è che volevo parlare, perché sono rimasto, io non guardo mai le reaction, però ho visto, mentre guardavo a giro ho visto il tuo faccione, un po' così, fermo. Beh quella foto standard, non era che... Perciò non lo so, io non seguo molto, quindi... No, fanno loro, non so niente. Io Sinergo, alcune cose mi fanno anche ridere, è un ragazzo molto pacato, parla molto bene, proprio parla molto bene, è simpatico quando fa le sue recensioni, anche se non sono d'accordo, ma tante volte sì, tante volte per esempio sull'MCU, però sono rimasto un po', cioè quando si parlava del seguito non riuscivo a capire alcuni discorsi, ero d'accordo con molti i suoi discorsi che aveva fatto, perché alcuni erano giusti e in dubbio, anch'io voglio che un film finisca, però secondo me si confondeva un po' con un certo tipo di serialità, cioè io ero convinto che finito il primo Spider-Man che abbiamo visto, faranno il seguito per forza, anche perché rimane aperto tutto, cioè in realtà quindi è l'unica cosa che gli do veramente ragione, è la fregatura del... che lo dico sempre, io guarda sto girando il meglio e il peggio all'altro, ho girato ieri, Ah, è vero, vede! L'ho montato e l'ho messo nel meglio e parto dicendo, il film poteva essere anche fra i più bei tre dell'anno, bisogna vedere se il secondo tempo a livelli del primo, a livello di scrittura, perché io, questo secondo me è importante in realtà per uno come me che non ama Spider-Man, nel senso che non è che ci sono cresciute, ve l'ho spiegato, io quando ero piccino c'era i blocconi negli anni 70-80, questi blocconi grossi sì, ma anche fatti bene proprio... Sì, le raccorte della corno erano. Pico libro proprio, che leggevo così da quando ero piccolo, perché capitavo dalla mizia grossietola e me li comprava, li leggevo, leggevo valunque o, sape, se picco. E io ho sempre pensato che, in realtà, quando ho guardato gli Spider-Man di Remy, sinceramente io sono andato a vedere Remy, mi interessava poco cosa girasse, sono andato a vedere anche pure Dr. Stranger, il multiverso, vedendo una musata e parevano 12, quindi io vado a vedere sempre Remy. Quando ho visto gli altri Spider-Man mi è cascato le palle, perché ho pensato ma qui veramente, cioè, si regredisce all'idiozia, cioè si torna indietro a roba che era buona negli anni 60, cioè forse negli anni 70 come scrittura veramente basilare. Quando ho visto questo Spider-Man ho pensato, nel mio piccolo, speriamo facciano un paio di seguiti di questo, facciano una trilogia, così perlomeno il cinefumetto, la Marvel stessa, tutto si accorge che c'è possibilità di fare comunque, dei cinecomics, animazione o no, a me è molto relativa, nel senso che, come ben sai, per me basta essere un bel film, io non sto a guardare. Al di là del fatto dello stupore, come hai detto te, del primo, del primo che si è visto, no? Io quando ho visto il primo, lo stupore assoluto dell'animazione, a me mi ha proprio preso tantissimo, ho trovato un livello artistico enorme, però quello che mi sembrava strano era che non si riuscisse a vedere che questo Across the Spider-Verse, quello nuovo, che naturalmente dovrò vedere il secondo per vedere se funziona nella sua intrezza, Ma io penso proprio di sì, perché tanto penso che la storia l'abbiano già scritta tutta, semplicemente come usa adesso, cioè quello che volevo far capire io, in realtà che non mi tornava del discorso di Sinergo, era solo questo, il fatto che se mi dividi in due dune, perché non mi devi di dividere in due l'omoragno? Cioè, tanto ormai dividono in due tutto. E poi c'è stata una cosa, quando ha detto Il Signore degli Anelli, che non mi è tornata affatto, nel senso che Il Signore degli Anelli è già diviso in tre blocchi, e quindi a regolare dividono in tre blocchi, alla fine. Sono tre film distinti, come tre libri distinti, che poi vengono messi insieme, ma sono tre capitoloni distinti. E non capivo questa cosa lì, era una serialità dovuta, cioè non è che poteva fare davvero, per me lo voleva fare Peter Jackson, ma non puoi fare un film da 12 ore, mandarla al cinema, te lo guarda. Cioè, quindi, è chiaro che lì, cioè per me, quello che cercavo di intuire io, è cercare di capire che la serialità nel cinema c'è sempre stata, ma dai tempi di Gianni e Pinotto, cioè quindi, è che è chiaro che deve essere una serialità diversa, e quindi secondo me la MCU sta sbagliando tutto, perché è una serialità che mette insieme 60 media, e il fumetto, e quello, e la serie tv, e 14 film, e quindi il cinema va a morire. Però non trovavo che fosse possibile legarlo a questo, anche perché ho trovato io, personalmente che sarò un ignorante in realtà, un avanzamento della tecnica del primo. Sì, non è che nel secondo ci sono... È quello che dicevo anch'io. Secondo me la regia era una bomba, cioè la regia del secondo, cambiati registi mi pare, è migliore, è migliore, ci sono le scene d'azione, quando partono quelle soggettive incredibili, le rincorse che fai, ma rimma maiala, cioè è cinema di altissimo livello, a livello tecnico proprio, e quindi anche a livello di sostanza, perché se si spera che nell'uomo ragno torni tutto, a livello di scrittura, è quasi impossibile. Cioè è normale che ci sia qualche piccolo buco qua e là, si sta parlando di un fantasy, qualcosa che deve portare avanti per forza la storia, no? Cioè quindi quando si discute, lui poteva, come mai è scappato, bastava mettere due a guardarli, sì ho capito, allora andava più avanti, cioè il cinema fantasy diventa un problema. Cioè quello che non riuscivi, che di cui mi interessava in realtà parlare con te, era più che altro sul fatto di, non tanto che lui potesse fare ragione al nostro, se ti piaccio al no, perché quelli con gusti personali, certo, mi piaciuto, a me che mi interessa. Cioè il fatto che, è vero che avevano costruito con il primo, un uomo ragno, secondo me, perfetto, ma non sono dell'idea che in realtà non era perfetto nella sua chiusura. Se si deve parlare di cose, in realtà il personaggio di Gwemmler è apertissimo, personaggi anche dello stesso Peter Parker, che ritorna nel suo, è apertissimo, e infatti come notiamo nel secondo, sono naturalmente cambiati. Secondo me invece l'inizio del rapporto di Across the Spider, è perfetto. la ragazzina che il babbo la sgama, e che quindi deve per forza scappare con questi. Quello è un bellissimo rapporto. Secondo me la cosa bellissima di questo film è aver trasformato in realtà lo Spider-Man 99, diciamo, che è il buono, è il super che parte, che è il supereroe per il supereroe di tutti, in realtà sembra che diventi lui più il cattivo che l'uomo buo, chiamiamolo sì, cioè sembra quasi che il film poi, in realtà lavori appunto su quei canoni che vengono nel film stesso e definiti come importanti, quello che vi deve morire qualcuno, quelle cose per trasformare l'uomo ragno, che in realtà il film proprio discutesse all'interno, metacinematograficamente, di quanto questi canoni debbano essere spezzati anche a livello cinematografico proprio, per essere più interessanti, e non stare sempre dietro alla solita logica. Quindi quello che veniva detto, che mi pare che finito il primo ragno, il primo monetto ragno nel Spider-Verse, lui fosse completamente diventato l'uomo ragno, non è vero, non è diventato realmente l'uomo ragno, lui è diventato in quel momento, in quel momento ha acquisito la forza, ma non ha ancora acquisito la sensazione di poter essere davvero così importante con quei poteri, cosa che in realtà sta acquisendo in questa parte qui, dove si rende conto che in realtà forse ha fatto degli sbagli, forse no, e dove il finale che spezza nel momento in realtà più interessante, diventa però a quel punto ancora più voglioso di farmi vedere cosa succederà, proprio perché, secondo me proprio l'idea del canone spezzato all'interno di un film che spezza il canone è troppo forte, non può essere messa in secondo piano, io questo intendevo, non mi tornava questo discorso, poi che piaccia o non piaccia, mi interessa, e poi l'idea della serialità nel cinema è completamente diversa, come è stata strutturata perlomeno per ora con questo Spider-Man, cioè in realtà io lo sto vedendo come una trilogia che diventa un dittico, però il secondo è troppo lungo e quindi non possiamo portare al cinema cinque ore, per tanto la gente non ci va, come tagliano Napoleone di un'ora e venti di Ridley Scott, figurati su un tagliano Lomaragnon 2, testo e discorso, se no andrebbe detto per Kid Bill, allora Kid Bill era una merda perché l'hanno diviso in due, per esempio che ho usato io, ma la logica è la stessa, cioè questo Spider-Man in realtà è un primo e un secondo tempo come era Kid Bill, quindi a quel punto dovrebbe fargli schifo anche Kid Bill. Ma anche il secondo e il terzo Matrix, o anche i Matrix, che sono costruiti per quello, cioè secondo me c'è un certo tipo di idea filmica della serialità che funziona, non è inutile negarla, quando la serialità ha un senso, cioè ogni film se si chiude va benissimo, è una serialità ottima, questo film non si poteva chiudere perché non per scelte artistiche, ripeto, non sono scelte secondo me del regista o scelte di chi lo vuole fare, ma scelte produttive, cioè perché mettere quattro ore al cinema quando ci si può incassare due volte e si fa il doppio delle incasse e ci va più gente perché quattro ore sono spettacoli. Ormai purtroppo bisogna ragionare così. Quello che io spero però è che sempre che la serialità, se utilizzata, l'engono utilizzata bene e che porti a un livello alto. Così come mi è piaciuto tanto il primo Dune, spero che la seconda parte ora che esce di Villeneuve sia al livello del primo, lo spero veramente tanto. È vero che è brutto dover aspettare, è una cosa che gli do ragione pienamente. Non riesco però a capire perché una volta tanto che si fa un bellissimo film d'animazione, avanguardistico a livello tecnico, avanguardistico anche a livello di sostanza, perché comunque riesce a mettere nel mezzo qualcosa che nei supereroi non viene mai messa, come ben detto te, un Peter Parker così drammatico, una scena così forte, l'aveva fatta solo Remy in realtà, una scena così potente. Remy viene citato sempre, sempre questi film. Ma questo c'è, questo aveva fatto nel primo una forza tale che dopo mezz'ora ti ammazzava Lomoragno nemmeno, cioè ti stempiava Peter Parker, che poi tornava a Orbuzzo, e questa cosa qui però non era come il Buzzo di Thor, era spiegato, si capiva il perché era così. E non riesco a capire perché una volta che si riesce a fare un bellissimo film, non si possa cercare, visto che tanto il fumetto nasce come una cosa seriale, cioè è da 60 anni e codec è Lomoragno, quindi c'è, è una serialità data da fumetti, non capisco perché, questo mi veniva in dubbio, non si accetti bene il fatto che da un bellissimo film se ne possa tirar fuori magari un altro paio belli, cioè è una cosa che un po' mi ha stupito in quel senso, nonostante io poi per il 50% sia pienamente d'accordo sui discorsi che fa sulla serialità e tutto il resto, perché io voglio un film finito, anch'io, cosa ti ho detto? Quando ho visto il film ho fatto cazzo, io mi sarei stato lì altre due ore tranquilla, mi pareva proprio un cazzo, mi aspetta aprile, maggio, quando uscirà, non me ne frega proprio nulla, e l'avrei visto volentilissimo subito, il problema era proprio che vedendo questa reaction mi sono reso conto, ma non tanto per quello che diceva lui, mi sono messo io a ragionare su me stesso, ma la serialità nel cinema ho iniziato a pensare, ho iniziato a pensare che però ci sono tanti momenti in cui invece la serialità ha funzionato alla grande e quindi ripeto, mi sembra strano che siccome ti hanno fatto un film bellissimo, tu vogliessi fermino, cioè quindi fine, cioè una volta mi hanno azzeccato uno, facciamogli le fammi di atto così per me, dai uno sguardo ai ragazzini, e agli adulti che è finalmente adulto nonostante parli a tutti e quindi finalmente porti il cinefumetto anche di animazione su un altro piano, su un altro livello e quindi io sono solo contento se domani mi fanno un Iron Man così, con una bella storia chiaramente, io sono felicissimo perché devo esserne contento, perché devo essere scontento, cioè, tanto si sa che quella cosa funziona così, l'importante è che sia Iron Man per i cazzi suoi e non sia legata anche a quello un'altra volta alla Moraglia e che non faccia il danno dell'MCU, cioè che non faccia un universo che poi per capire il quarto film dell'Uomo Ragno devi vedere tre Iron Man, allora diventa un casino, ma per ora mi sembra che l'operazione sia riuscita, perché artisticamente il secondo film è superiore al primo, cosa che quasi non credevo, per me è superiore, ci sono, hanno portato quanti poi dell'idea di tutti questi Spider-Man che è talmente ironica, talmente folle, poi ribalta, ripeto, tutta la concezione che abbiamo del supereroe che non sbaglia mai ed è fantastico, perché l'Uomo Ragno e vedere che anche l'Uomo Ragno che ha lo Spider-Man 99 nel voler cercare di fare una cosa votiva in realtà sbaglia pure ancora lui, è ancora più umano in quel senso lì e il fatto appunto di trasformare sempre di più in realtà il buono quasi in un cattivo vero del film, che poi in realtà è quello, è diventato veramente interessantissimo per me, quindi il discorso è che quando ho visto il tuo discorso con Sinergo, la tua reaction, non era tanto quello che diceva Sinergo che poi mi potesse dare, perché poi quelle sono opinioni sempre personali e quindi rispettabili come tutte, quella che non capivo essenzialmente era uno sul Sinergo che cazzo c'entrava con la serialità, cioè nel senso è un film che... Lui aspetta, ti fermo, lui dice che... E' lui che ce l'ha con... No, 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 lui dice che non si sapeva che il film era diviso in due parti, e quindi quando... Ma non è vero? Ma sì che si sapeva, doveva essere... Perché lui l'ha detto non c'era scritto, non c'era scritto, non c'era scritto nemmeno in Dune, ma lo sapevano anche i Muri, Eh sì. Che era la prima parte, si sapeva da un mese, cioè di... Tutti i... Come si chiamano l'ufficio stampa, tutti... Cioè lo sapevo io, che me ne fregava un cazzo che lo sapevo già che andavo a vedere la prima parte, no? Non è che uno lo sapevo. Ripeto, rimani scoglionato perché ti tronca proprio in un momento in cui sei proprio a metà film. Io sapevo che era una prima parte, pensavo che si concludesse e sul finale ripartisse qualcos'altro, non pensavo finisse a metà, nel senso fosse diciamo un primo tempo più che una prima parte. Quello sì, ma non puoi scrivere Across the Spider-Verse primo tempo, cioè se ci scrivi prima parte tanto è uguale, cioè che ce lo scrivi o non ce lo scrivi, tanto la gente sarebbe andata a vederlo lo stesso. Sì, sì, io mi ricordo quando feci il reaccio a un trailer a partone, partone. Ma poi c'è una cosa che è strana, cioè l'hai visto adesso che non è più al cinema e quindi come fai ad avere una valutazione reale di un film che è chiaramente cinematografico? No, ma poi c'è... Esatto, ma come fai? No, no, a livello critico, cioè se l'hai vista la televisione ti perdi tre quarti del film, cioè allora a quel punto il discorso che faceva lui del cinema, viva il cinema, tutte queste cose qui mi diventa un po' contraddittorio, ma era una cosa non tanto lui, perché, ripeto, ragazzo simpatico che mi piace anche quando parla perché è molto pacato e poi fa ride, è una persona gentile, lo vedo proprio, anche se non lo conosco, si vede. Quindi non è il discorso che ha fatto, non è come lo faceva, perché anche il discorso come l'ha impostato era buono, cioè non è che urlavo chissà cosa, giustamente ha detto che mi insulterà, ma chi lo insulta? Chi ci pensa è insultare una persona a cui non gli piace un film? Però, ripeto, siccome è una persona molto seguita, molto seguita, ogni parola che dice dovrebbe dare, secondo me, un peso, ecco, quando sei molto seguito dai un attimo un peso, se continui a dire che il Signore degli Anelli è tipo MCU stai facendo un errore cinematografico, stai proprio facendo un errore proprio di impostazione verso quello che stai dicendo alle persone, non si può considerare un tipo di trilogia o la tetralogia di Matrix come si può considerare la MCU perché è un altro tipo di considerazione e quindi, secondo me, bisogna stare un po' più attenti quando si parla di, diciamo, determinate cose che riguardano la sala perché, in realtà, ripeto, ci sono stati 6.000 Halloween, 7.000 venerdì, 13.000, 14.000 screen, cioè la serialità è sempre esistita, quando una cosa ha successo al cinema è rarissimo che non facciano un seguito. Ormai, guardate Blade Runner nel 2049 e fanno i seguiti dei flop perché poi fanno flop. Cioè, quindi, è una cosa ormai ciclica e è inutile pensare come facciano. A me dava più fastidio, ecco, chiaramente, era andato bene il primo e facciamano un remake subito. Rifacciamano ancora più. Allora, potevo capire che diceva, cazzo fai, scusate, è venuto bene, va tre anni fa, ne rifai un'altra ora a cazzo di cane. Ma, se il film successivo, che ripeto, l'unica cosa che gli do pienamente ragione è la ghignata del primo tempo perché poi, che veramente è cattiveria, non da chi ha fatto il film e che lo voleva tutto insieme, ma ne sono sicuro, ma da chi sicuramente, come Bill Maver che ha detto, e me lo dividono in due, io non posso farci nulla, ho litigato per sei mesi, io sono sicuro, che quelli che hanno fatto Spider-Man, Acrosse di Spider-Man hanno litigato lo stesso, ma tanto non c'è versi. Tanto c'è scritto che decido io e quindi, a un certo punto, se deve essere fatto un cinefumetto bello, meglio uno bello diviso in due parti che però leva di uno che fanno uno di due ore e mezzo che è una merda, scusatemi, è questo che io volevo capirci, cioè meglio una serialità di quattro film belli che fa un film solo di merda, questo io intendevo, quindi è questo che io non riuscivo a capire nell'idea della serialità, poi sono d'accordo che io amo andare al cinema e vedere il film, iniziare e finire, ma io amavo anche andare al cinema e vedermi tutta la sposa di Shaki, poi il figlio di Shaki e poi Shaki, perché ci sono anche alcune cose che sono fatte anche per essere seriali e non toccano il cinema, perché possono essere chiaramente tipo la sposa di Shaki vista anche da sola, senza alcun problema, quindi era tutto lì, partiva quest'idea da una mia connessione in realtà mentale con Sinergo che vedevo molto vicino a me in alcune posizioni, perché alcune posizioni che dice nel video sono praticamente identiche alle mie, quindi non posso altro che dargli ragione per il 50%, quello che non capivo è un certo tipo di rapporto che secondo me non funziona e che devi stare attento a rapportare perché a un certo punto sembra che tu metta sullo stesso piano il Signore degli Anelli con Spider and the Way Home, che non è possibile, nemmeno cinematograficamente, quindi se te hai gente che ti segue i rischi che persone le allontani da vedere il Signore degli Anelli quando è il fantasy più bello degli ultimi 40 anni. No, ma io credo che il pubblico che di Sinergo sa bene che lui è tutto molto così, quadrativo, e appena vede una spada non ce la fa, appena vede un'armatura non ce la fa. Cioè che fa King Kong che leva di ulo, che fa Mabili Resti che leva di ulo e che addirittura la trilogia dell'Hobbit che fa cagare a tutti è una mia garba bestia. Quindi penso che mi sono fatto, ma perché Peter Jackson per me ama il cinema e si vede che lo ama in ogni sua... Io due terzi dell'Hobbit mi piacciono. Vabbè, io butto giù tutto, mi importa una sega, tanto se di nove ore ce ne sei buone va bene lo stesso, va bene lo stesso, fa un culo. L'uomo poveraccio l'ha dovuto girare in sei mesi perché il Guglielmo del Toro è andato nel culo, cioè quindi bisogna anche capire che ha fatto tutto molto velocemente, non è come il signor di Gennetti si è preparato per tutta la vita perché non ci rimentichiamo che era il suo sogno era il signor di Gennetti e King Kong, ha fatto i suoi dei sogni e comunque se l'è pagata Peter Jackson. Si, si, certo. Ha fatto l'Hobbit è fermo, non ha più fatto un firma. È vero. Fateci aso. Quindi se l'è pagata. No, no, è vero. Perché cosa ne pensi? Al di là del fatto che ha avuto successo, ma il discorso nasceva appunto sull'uomo ragno e provo perché avendo visto questo video e avendo visto una tua reaction non l'avevo mai viste, avendo visto questa reaction prima di tutto mi è garbata la tua reaction perché era molto pacata. Cioè non era una reaction che cozzo dici testa di merda come vedo a poco che la gente fa. non ne vuoi di solito così. Quindi c'è una reaction abbastanza pacata. Un po' super ironica oppure le faccio serie. No, un po' di ironia c'era ed è giusto. Però io non riuscirei a fare una reaction su quello che dice un altro perché a quel punto li vorrei bussare ma si fa due parole perché sono molto più come dice E io l'avrei anche invitato Sinergo ma c'ha degli orari veramente da pollo. Eh sì, quindi va a letto alle nove e mezza. Sembra un complicazzo che andava a letto alle otto di sera. Cioè lui va a letto si sveglia presto va a letto presto e io mi sveglio tardi e vado a letto tardissimo. Quindi per me questo qui è orario di precena. Esatto, sì, ma è vero ma per tutti penso. Per me quindi. Però non è che invitarlo perché poverino lui in realtà l'avevo preso come pretesto per poter parlare in realtà della serenità nel cinema in realtà di come in realtà uno come me che ama il film dall'inizio alla fine però non pretende che purtroppo nel mondo di oggi tutti ragionano come me perché se si ragiona come me si cancella lo streaming. Se non si ragiona come dico a me per me via tutti e si ritorna tutti al cinema. Guarda un po'. Quando a me sono fatto e se si ragiona meglio io fanculo lo streaming e si ritorna al TV di Blu-ray e cinema. E purtroppo mi rendo onto che dicendolo tutti i giorni è inutile. Quindi se mi esce chiaramente come ora esce Dune come ho detto di Villeneuve chiaramente spero che qualche cinema decida di proiettarlo tutto di fila uno e due di fila così magari mi li vada a sparare tutti e due così mi vedo complessi se no mi toccherà riguardarmi il mio Blu-ray otto volte di Dune e poi andare al cinema a guardarmi il due e tornare a casa a riguardare uno ma è una condizione proprio economica. Su questo gli posso dare ragione. Sul discorso economico è che è tutta una fregatura ormai che ti tocca pupparsi i film spaccati in due sono prima di che è una stronzata ma non si può per questo dire che quel film nuovo vale la metà della metà che ho sentito di quello prima perché non è vero non è vero filmicamente è oggettivo si vede cioè è una cosa che si vede poi soggettivamente che non ti piaccia è relativo ma quando fai una critica quando io ho parlato sempre con i miei idoli come mi hanno insegnato io poi non gli do retta ma di solito la critica si fa in questo modo qui si dice intanto come nasce il prodotto si dice la trama del prodotto si dice oggettivamente ciò che funziona del prodotto e poi si dice se il prodotto ci piace o no cioè la critica è questa cioè però se un prodotto è fatto benissimo a livello tecnico io non posso dire che Wish che va nel peggio perché è un troiaio della Disney posso dire che tecnicamente è fatto male a me tecnicamente non mi piace che non mi piace quell'estetica non mi piace come è disegnato non mi piacciono i cattivi non mi piace la storia ma quando ho fatto la mia distruzione l'ho messo nel peggio ho dovuto dire oh occhio non si parla di tecnica perché è chiaro che l'animazione è fluidissima è chiaro che i movimenti di colori sono perfetti non è che sbagliano la tecnica in quel senso è che la tecnica utilizzata serve a raccontare il vuoto cosmico e quindi è una tecnica che non serve a niente è come fa una solo di guitarra di Bach da 25 minuti che te lo permette nel culo tanto mi ascolto Bach la logica è più o meno quella invece ho trovato che nella seconda parte dell'Uomo Ragno gli autori gli stessi autori anche che hanno lavorato tutti gli artisti si siano sforzati in realtà per creare qualcosa ancora di diverso e quindi quando sono andato a vedere la seconda parte diciamo mi sono trovato di fronte a qualcosa di completamente diverso che si veniva dal primo e utilizzava quel tipo diciamo di animazione che vuole mescolare il 2D però ho trovato che ci sia stato proprio un'evoluzione a livello proprio narrativo cioè non è vero i personaggi stanno crescendo benissimo cioè il personaggio della Spider Girl è bellissimo come sta crescendo con il rapporto paterno così come è interessantissimo che mi arriva cioè ci sparano dentro un qualcosa di anarchico come uno Spider Punk come fai a volerli male ci arriva questa è punk ma cosa cazzo c'entra quindi quella è follia vuol dire libertà che nel primo non avevano pur avendo fatto un grandissimo film perché per me era un grandissimo film qui si nota che proprio la libertà siccome hanno fatto un grandissimo film nel primo hanno fatto nel 2Vaio un po' come Spider-Man 2 di Remy non è che siccome il primo Spider-Man allora a me il primo Spider-Man di Remy mi era garbata a destra non avevi fatto un ottimo Spider-Man era come dirvi a Lommi far due perché il due è più bello del primo è crudeltante è un po' come dirvi e allora fermati non hai fatto uno bello oh Remy non mi rompere più i coglioni e no e cazzo ma fanno due che leva di uno cioè quello che dico io quando si parla di fumetti e cinefumetti la serialità è doppio è normale che se un fumetto funziona un cinefumetto faranno il seguito quello che non è normale è che poi facciano 50 cinefumetti tutti collegati l'uno all'altro allora a quel punto diventa non più una serialità cinematografica ma una serialità televisiva che appunto quindi distrugge il cinema stesso e li sono d'accordissimo con lui poi posso capire che non gli garbizioni non è una questione di gruppo di gusto soggettivo soggettivamente può far schifo tutto però porca miseria che siano passati 23 anni quasi dal primo che si è poi aggerati praticamente tutti insieme che siano passati più di 20 anni e che gli effetti speciali la messa in scena la recitazione sia migliore del 99,9% dei filmoni che costruiscono da miliardi guardi Antman quantomenia hanno speso per solo per quel film lì tutto quello che lui ha speso per fare la trilogia del signore degli anelli e non vale un pelo del culo nemmeno un inquadratura cioè è quello che voglio dire io quando si ha degli artisti che lavorano io vado a vedere gli artisti che lavorano quello che raccontano è molto relativo cioè quando il grande Peter Jackson fece Creature del cielo che non è un horror è un dramma di due ragazzine che ammazzano qua la mamma di uno che è il capolavoro quando andavi a vedere al cinema uscii facendo le capriole pure il film che avevo visto prima era splatter le scoppiava tutto e non scoppia nulla cioè mi capite cosa ti voglio dire quindi non limitiamo mai gli artisti limitiamo al limite i rompicoglioni tipo Ken Feige che sono i produttori che impongono determinate questioni perché poi a un certo punto sono quelli che rovinano non è mai chi crea cioè chi crea cercherà di far sempre qualcosa di buono se poi gli dai 5.000 paletti 6.000 cose alla fine viene fuori la merda quello che mi sembra a me da guitto perché io poi probabilmente ne so anche meno di Sinergo in cinema e cazzo ne so io da guitto come sono dico semplicemente porca buttana io una cosa come Across the Spiders al cinema una animazione sì non l'avevo mai vista nemmeno in quello prima ma poi a livello di trama è un film che in realtà porta per benissimo avanti tutto quello che aveva fatto nel primo perché si rilega perfettamente senza dover per forza avere una forzatura esagerata è quello che mi piace mi piace la tristezza di questo Morales che è da solo non lo caga nessuno da un anno e mezzo ha capito che c'è mondi paralleli ha capito che c'è ha perso questo zio insomma nel primo che era importantissimo come rapporto e quindi in realtà ripeto la cosa che mi interessa di più di questo sequel che è bellissima secondo me è l'infrangimento dei canoni interni stessi al fumetto stesso che diventa quindi un infrangere l'aspettativa dello spettatore ti viene infranta nel momento in cui in realtà ci rendiamo conto che l'uomo macchia diciamo così non è altro che un McGuffin per creare il vero cattivo che in realtà è il buono all'inizio del film che non dovrebbe essere toccato ok è come se veramente in Spider-Man 3 Remy avesse fatto Spider-Man cattivo io è impazzito per me sarebbe stato bellissimo quando si spezza quel canone mi diverta veramente forte la cosa e quando lo si fa attraverso un film che ragiona su se stesso bisogna capire a che cosa serve il film poi se non piace o non piace come dico sempre a mia moglie preferisce la cioccolata e preferisce la marmellata quindi ognuno c'è il suo però non è che la cioccolata è merda cioè quando l'assaggio fa buona a me non mi garba tanto ma è buona lo stesso oggettivamente lo senti che è qualcosa che è da mangiare e oggettivamente vedi che Cross the Spider-Verse porta avanti l'animazione un'altra volta che quindi è un livello che probabilmente un'altra volta se col primo dicevo già si dovranno confrontare l'hanno presa nel culo di porte perché ora tutti quelli che fanno l'animazione io ho messo tante animazioni orientali nel meglio perché è uscito in UO tanta roba molto bella ma l'animazione quella ameriana come appunto Wish Rubikidam e tutte le strade sta sbattendo tutti la ghigna sul fatto che sembrano vecchi di 80 anni dopo aver visto Across the Spider-Verse tutta l'animazione americana di quest'anno tutta sembra vecchia di 100 anni cioè dopo aver visto Across the Spider-Verse guardi Wish e fai ma di cos'è del 97 che rimani vabbè Wish è un caso particolare perché è nato vecchio proprio nato vecchio anche veramente Dreamworks cioè te li dico tutti sembrano anche esteticamente vecchi vecchissimi perché anche se Wish prova a fare un po' di disegno diverso ci prova a fare un po' di quella cosa di Rubikia non ce la fa perché ormai ha dato quando siamo nel cinema arriva un'opera che dà uno standard successivo vuol dire quest'opera importante non può essere banalizzata io dico solo questo cioè quando arriva Quarto Potere ti può non garbare Quarto Potere ma non lo puoi banalizzare perché dà dei canoni che diventano diversi per quel tipo di cinema quando arriva 2001 non dico che ha l'importanza di 2001 a livello di sostanza ma ha un'importanza a livello tecnico per l'animazione specialmente che ormai è imbattibile cioè ormai qualunque cosa esca l'animazione a me mi passa di fronte non ci posso fare niente Spider-Man quello nuovo perché ormai sono talmente preso dall'idea di poter raccontare e non dico che tutti devono per forza usare quel sistema assolutamente perché se no diventano banalizzare tanto se Ruby Gilliam era disegnato sistemato così fatto con quella storia di merda lì restava una storia di merda quindi lì sarei d'accordo sconsinergo se mi dicesse non banalizziamo il lavoro fatto dal primo facendoci solo merda allora diventa una cosa brutta però dico se attraverso il lavoro artistico visivo si riesce anche a fare più sostanza perché sono dell'idea che quando uno si sbatte per fare una cosa sia artistica a livello visivo così bella a un certo punto ci deve accompagnare qualcosa da dire perché non è che può fare così bella per poi raccontare l'amoragno e fare avanzi alla Hawaii mi capisci ce ne voglio dire che quindi secondo me un livello tecnico che si alza così in alto ma insieme all'arte non può far solo che bene in realtà e quindi se ne fanno un altro paio non possono altro che creare dei canoni che per forza di altri studi sono obbligati perlomeno a dover prendere in considerazione dico questo poi il resto è chiaro che ognuno gli importa una serie per fare il suo lavoro dico solo che siccome è seguito da tantissime persone queste persone che molti giustamente ascolteranno anche quello che dicono deve stare attento quando fa un discorso sulla realità perché la serie realità nel cinema è un discorso che ci vuole 15 ore per farlo cioè non si può banalizzare dicendo le anali di tre che parla di tre film ma tre cavolavori e tre film non è che dire tre volte me contro te vansia in Transilvania uno, due, tre cioè quello fa veramente malerci ma cosa cazzo è quello che intendo io attenzione quando si parla di serialità perché la serialità ha portato anche Halloween 3 che non c'entrava un cazzo con quegli altri che è un grande film dell'orrore quindi attenzione perché la serialità a volte in realtà guarda il padrino perché il padrino 2 non si voleva ai bocchi è schifo ma stiamo scherzando cioè quando una serialità è fatta da grandi autori perché hanno qualcosa da dire vai Rick no allora a me il primo è piaciuto tantissimo e secondo me il problema del secondo non è tanto la questione della serialità in sé io penso che rispetto al passato ci sia una differenza tanto con questo quanto con Dune parte 1 adesso uscirà a marzo il parte 2 perché è stato posticipato il problema è che una volta quando si faceva questa serialità del tipo il primo film che poteva dare addito agli seguiti e poi magari il secondo e il terzo creano un film unico come Matrix mi viene mente anche Pirati dei Caraibi il secondo e il terzo erano chiaramente un film spezzato in due parti il problema è che lì li giravano insieme come anche Signore di Anelli qui adesso siccome non si rischia più perché gli incassi sono calati perché si ha paura di fatto di rischiare girano la parte 1 vedono come va e se va bene dopo 2 o 3 anni ti becchia la parte 2 questo Across the Spiderverse avrebbe dovuto avere il seguito già quest'anno poi dopo qualche settimana dall'uscita del secondo hanno detto no sapete che c'è è che in realtà abbiamo detto una cazzata non abbiamo mai girato la seconda parte non l'abbiamo mai fatta e quindi aspetteremo altri 2 o 3 anni il problema è quando la parte 3 che poi è di base la parte 2 il seguito del secondo arriva dopo tanto tempo è un po' quello il problema perché se ma sai lì però ritornami discorso non ha niente a che vedere con chi lo vuole fare sono discorsi produttivi che è tutta colpa ricordiamoci non è colpa loro no no è colpa dei produttori quello del pubblico più di tutti del pubblico perché il pubblico non gli interessa cioè se non li garba vaffanculo di fare la parte 2 è questo poi il problema alla base cioè il signore degli anelli a lui l'hanno fatti girare tutti neanche una specie sì sì l'ha girato in 10 mesi una volta poi ok è uscito ha girato tutto cioè quello che ti volevo dire hai pienamente ragione però qui si continua a parlare di produzione che non ha niente a che vedere sì certo io sono d'accordo è ovvio che non è per gli artisti è monetario e te l'avrebbero fatto uscire due mesi dopo fosse stato per loro il problema è che ancora una volta è il rischio poi il primo Into the Spiderverse è quello che si chiama game changing cioè qualcosa che ti cambia le carte in tavola dopo Spider-Man un nuovo universo Into the Spiderverse chiamatelo come vi pare la maggior parte dei film d'animazione hanno iniziato ad adottare quella tecnica lì che ricordo è stata brevettata da Sony perché non esisteva quella tecnica con questo 3D che però richiama il 2D fumettistico con i retini pensiamo a anche da un punto di vista seriale pensiamo ad Arkane pensiamo al film delle tartarughe ninja che a me non è piaciuto però tecnicamente parlando tecnicamente è delissimo peccato c'è una storia di merda sì sì a me non è piaciuto però tecnicamente di poi dire niente lo stesso wish che a me non è piaciuto neanche un po' per me è uno spreco incredibile oltre a essere scritto male eccetera ha una tecnica che di base poteva anche essere interessante ma è piatta come la merda non c'è non c'è anima è una roba che butti lì sullo schermo piattissima nonostante poi non sia fatta male in sé mentre invece Spider-Man un nuovo universo sperimentava con qualcosa di diverso e per quanto mi riguarda il primo e anche Across the Spider-Verse che anch'io ritengo sia migliore nettamente rispetto al primo che mi sembrava una cosa impossibile cioè io quando quando l'ho visto il trailer ho pensato boh ma cosa possono fare più di quello che hanno fatto con il primo perché poi è chiaro che volessero fare un seguito però è anche chiaro che molte cose che vediamo nel secondo non le avessero pensate basti pensare al fatto che alla fine del primo c'era la scena dopo il titolo di coda con quello che poi è il mezzo cattivo Miguel O'Hara che poi in realtà non è proprio un cattivo lo Spider-Man vampiro per intenderci nel secondo nella scena post-credit del primo era un gigione serviva per fare la battuta del meme dei due Spider-Man che si indicano che viene usato ancora oggi nel secondo invece un personaggio nettamente più profondo ma è passato un anno e mezzo eh sì sì ma va benissimo è passato ma è interessante cioè se avessero tutto fatto che era attaccato era passato un mese non tornava sono passati quasi due anni quindi guarda Fede ma non è tanto quello il problema è proprio che loro nella loro idea probabilmente volevano fare qualcos'altro con Miguel O'Hara ma onestamente meglio così perché il personaggio è fantastico cioè tu ti becchi uno Spider-Man sostanzialmente mezzo vampiro e vuoi sapere perché per come non l'hanno ancora approfondito vediamo nel terzo film non solo io credo che dal primo al secondo film ci sia stata un'evoluzione pazzesca di Miles Morales personaggio che anche io non ho mai sopportato molto perché a me era nella versione Ultimate c'era questa cosa per cui mentre c'era ancora Peter Parker in attività arrivava un altro ragazzino che veniva morso da un altro ragno io ogni volta pensavo sì ma oh va possibile che vengono morsi sempre i ragazzini perché non perché non hanno mai morso perché non hanno morso un operaio dell'Ilva una vecchia sì la vecchia sempre il ragazzino però il personaggio è fantastico non ci sono cazzi quindi a me piaceva l'idea che in questo secondo film Miles Morales fosse addirittura anche cresciuto fisicamente lo vediamo più grande non è più un ragazzetto è un quasi un uomo fa anche un recap iniziale delle sue cazzate mi pare il video di scuse su youtube e poi secondo me io quindi ma anche io l'ho detto prima io non concordo quasi mai con Sinergo però come ha detto anche Federico ha un modo di parlare che è ipnotico e poi comunque lui sostiene sempre le sue opinioni senza tacciare di non capire un cazzo chi la pensa diversamente da lui ha la sua opinione la esprime fine quindi lui invita anche a un confronto pacifico per cui quello che stiamo facendo sì sì anche se io non sono d'accordo con quello che ha detto e non concordo con la questione della serialità perché io ragazzi penso come anche Dario e Fusciante io sono sempre stato un grandissimo fan della serialità cioè io sono cresciuto con i Godzilla quelli giapponesi quelli della Tokyo a me piacciono da morire e quella è serialità vecchio stile la serialità la serialità catena di montaggio proprio ma sì ma la serialità di una volta come funzionava funzionava che fai un film è andato bene fai seguito è andato bene e ti inventi la storia man mano la serialità di oggi è una serialità a 360 gradi che non sempre funziona io che mi sono sempre divertito con i film della Marvel mi sto scoppiando i coglioni negli ultimi anni mi sto veramente scoppiando i coglioni ma ragazzi ma se non non si capirebbe anzi si capisce perché quest'anno fanno uscite Deadpool 3 e basta sì Deadpool 3 due serie e basta ma le serie non interessa a nessuno io dico di schermo secondo me non le dovevano fare le serie non le dovevano fare però ti sto dicendo se io in questo peggio ci ho buttato già quattro film della Marvel in un anno qui ne esce uno e non sono te tra l'altro e non vanno nemmeno a rischiare perché poi che cosa fai Deadpool 1 e 2 erano grandi era un cinema comunque gradevole allora cosa fai se devo portare ho appena acquisito Deadpool faccio Deadpool 3 così ma sì ma ovvio perché poi porti il personaggio forte però il discorso è che la serialità anche Hugh Jack io non ce lo facevo tornare dopo che ha rotto i coglioni dieci anni mi fa cala Marvel fate Logan voglio morire ne posso più mi manca sordi in banca e arriva ma secondo me io gli dicevo no vaffanculo però io quello che dico è la serialità 50.000 euro ci vieni la serialità regge il cinema da decenni ma io penso anche solo pensiamo a una serialità sempre vecchio stampo pensa alla serie di Emanuel quando a un certo punto arrivavano altri registi che prendevano in maniera apocrifa i personaggi e li portavano avanti anche se magari non avevano le permesse ma sì il grandissimo Giudamato Aristide Massaccesi pensiamo anche al litigio che coinvolse Thomas Millian e Lenzi quando Millian fece un film del monnezza senza il permesso di Lenzi stiamo citando delle robe per me altissime eh no però capito i film del monnezza erano serialità addirittura arriva un altro regista che dice facciamo un film del monnezza senza dirlo a Lenzi e Lenzi giustamente dice ma stronzo l'abbiamo fatto assieme e interrompe uno sudarizio durato anni quella è la serialità ma anche i film di Franco e Ciccio per me sono serialità ma certamente ma Franco e Ciccio ma volendo anche quelli di A Giovanni e Giacomo sembrano sempre gli stessi personaggi per dirti quindi boh alla fine io penso che sia l'anima del cinema cioè quelli che adesso chiamano franchise una volta erano le saghe sono sempre esistiti e addirittura in Italia siccome una volta il copyright era un po' un optional cioè in Italia esistono tipo cinque film brandizzati da casa però c'entra una sega con quelli di Reimi tutti i prodotti dalla Film Reimi noi serializzavamo ma proprio perché cosa succedeva anche Zombie 2 di Fulci eh eh sì non c'entra un cazzo anzi Zombie 2 è solo in Italia Argento e Romero si incazzavano perché disse Romero noi non possiamo fare Zombie 3 ma quando però poi Fulci ci andò a parlare gli dissi che cazzo c'entro io per me il mio è Zombie il tuo è Out of the Dead il mio non c'entra nulla con tu se la casa di distribuzione e produzione ha comprato il nome Zombie 2 per l'Italia infatti in Italia siamo a Zombie 2 all'estero si chiama Zombie o Zombie Flash Eaters perché non ha niente a che vede con quello di Romero ripeto cioè lo sfruttamento c'è sempre stato solo che fino a un certo punto posso capire che in effetti di quello che parlavi te però era uno sfruttamento anche in un certo senso più basso cioè la casa 3 la casa 4 erano fatti con me e a me mi piacevano anche perché era un horror più in realtà horror di quelli americani in un certo senso però e poi ricordiamoci che quello si chiamava Evil Dead e quindi solo in Italia hanno chiamato la Asse e ce l'ho messo a casa di Psycho ma da noi esistono anche c'è la casa con la C così e ce l'ha Serip Psycho è vero no più che altro per anche andare un po' a chiudere il discorso io non sono stato così troppo scontento della parte 1 anche se avrei preferito vedere un film intero perché io capisco ho parlato anche con altre persone con alcune persone l'ho anche intervistata qui sul canale che hanno lavorato a tipo per Fiore per Fiore per me è incredibile ha fatto il design di Vulture rinascimentale e tantissime altre cose straordinarie e ci ho parlato e si vedeva che alla fine della produzione della prima parte di Spider-Verse 2 erano arrivati proprio distrutti sfatti dalla fatica e hanno scritto questa storia molto grande e si sono presi del tempo per poterla fare al meglio perché chiaramente uno il secondo sarebbe uscito se no fra tre anni completo due se non avessero diviso in parti probabilmente avrebbero chiuso le animazioni con l'intelligenza artificiale io preferisco aspettare e vedere un film diviso in due parti bello anche se ho paura perché non si può dare una valutazione completa al momento però ho fatto bene perché se avessero dovuto tirare via la seconda parte mi sarebbero girati i coglioni alla grandissima quindi preferisco un partone rispetto a un parto vero e proprio cioè una roba che butti fuori guarda in effetti ho messo nel meglio un altro che è il gatto con gli stivali 2 che acquisisce la tecnica che hanno fatto in alcune scene nel movimento soprattutto nelle scene d'azione quando combattimenti ed è perfetto cioè quando dico e però cosa sono costretti a fare quando fai un'animazione del genere sono costretti a rendere più adulto il film che vale cinque volte il primo gatto degli stivali perché quando utilizzi un'animazione superiore l'artista che chiama a fare l'animazione pretende di lavorare su qualcosa che sia interessante secondo me cioè nel momento in cui chiami un artista vero non sembra una macchina uno che fa le cose tonto ma uno che crea quella scena bellissima del gatto degli stivali che corre sul braccio di lui e gli fa tutte le cose del primo mostro con la campana quello che sembra uscito da Miyazaki il primo mostro quello tutto quello tutto quella cosa lì bellissima cioè quella è una cosa bellissima e a quel punto il film diventa interessante perché diventa adulto cioè ci porta la morte di fronte questo che ha paura e quindi diventa super interessante con il lupo che arriva che è la morte ed è bellissimo il lupo è una cosa ma poi semplice quattro tratti cioè quello che poi mi è piaciuto tanto di questo di questo spiderman qui è che non è difficile nei tratti non so come farvi capire non va nel barocco ma è immediato è immediato sono belli tirati come il fumetto deve essere bam dai pronto e questo ha portato che il gatto con gli stivali è più secco del primo e ripeto secondo me quando si dà una costruzione artistica più alta alla fine siamo costretti a doverci fare per forza una storia migliore se no non serve a niente se no diventa come le tartaruche ninja che io ho qui il 4D solo perché quando lo guardo faccio boia ho fatto un lavoro un cremoroso però la storia faccio è proprio per bambini se l'avessero scritto ok avessero scritto e ti sto dicendo la mia paura è che e lì posso capire che questo tipo di animazione poi porta esclusivamente a Dio facciamolo bello a vedersi però sono dell'idea che in realtà visto che poi non è andato così bene invece il gatto di stivali 2 mi pare sì ci sia il modo ci sia il modo che la possibilità che magari ripeto grazie a un certo tipo di animazione anche seriale l'animazione di altro tipo la smettano di fare Swish che Swish è Swish c'è una scivolata per terra Swish Slippery When Wet cioè invece di Slippery When Wet avessero fatto varie cose cioè piano piano lo capiranno perché anche Wish non è andato bene cioè alla fine la gente è quello che trova alla fine la gente è quello che trova alla fine la gente è quello che trova alla fine la gente è quello che sbattela è assurdo ma ce la sbatti la ghina ma dai sono andati male con Marvel vs Magic Universe sono andati male con Pixar sono andati male con Disney soprattutto col film che doveva celebrare cento anni di Disney ma come fa ad andare bene se lo scrivi così di merda cioè veramente cosa dicevi comunque prima su Vic sul Gatto con gli stivali 2 no volevo dire sul Gatto con gli stivali 2 che anche quello comunque tende alla serialità perché è un pretesto per riportare in auge Shrek col quinto spero sia come Gatto con gli stivali 2 speriamo e anche perché è uno stile diverso Giovere e Bianca Shrek ma quello che a me piace del Gatto con gli stivali è che fa una cosa che Disney non fa più danni cioè uno dei motivi per cui Disney con i classici è messo in questo modo è che non osano più cioè io adesso non è che voglio i classici di una volta però ci parlavamo oggi con J.Taz la canzone di Scar cioè nella canzone di Scar a un certo punto ci sono delle iene naziste che marciano una roba che odio non lo metterebbe mai devono iniziare a tornare a dosare il gatto con gli stivali osa perché ti mette l'eroe che ha gli attacchi di panico perché non ha più vite rimaste è di fronte alla morte letteralmente cioè tu hai per tutto il tempo sto cazzo di lupo incappucciato con le lame che fa una paura fottuta se io fossi stato un bambino mi sarei cagato sotto che lo vuole scordare ma perché c'è ragazzi ma sta lì che con l'ansia si scura tutto in scivolone lì più che desiderio cioè questi hanno una tale mancanza di fantasia che guarda una stella e gli mandano emoji a forma di stella che si chiama star cazzo ma che fantasia nel mondo della fantasia si poteva chiamare in un altro modo ma poi quello che ti dico io lì lei ragiona tanto dei sogni sti cazzo di sogni viva il sogno penso al sogno guardo la stella ma arriva già la stella fai ammazza la fantasia poi la stella me laiami star no ma per favore c'è qualcuno li leghi qualcuno leghi questa gente i figli totalmente legati i legati alle seggio devono essere costretti a guardare a ripetizione da biancaneve a ben in su ma anche la regina dei nevi quello russo biancaneve è sotto in anime e quindi cioè guardiamoci la regina delle nevi quello russo che è un capolavoro io gli farei vedere come funziona veramente la mia azione basta basta ormai non ci mettono più i cattivi il cattivo di swish di scivolone è cattivo per modo di dire ma che cattivo è ma poi oltretutto io non voglio fare il resto tutti dicono quelle cose allora non fare il resto non rompeci i coglioni se non vuoi fare il resto è come dire è come un amministratore delegato che si lamenta che tutti gli chiedono le cose Cristo sei l'amministratore delegato ma no ma poi la cosa bella è che ho creato questo mondo vipo se ne lamenta quasi ma che cazzo vuoi ma vattene a lavorare ma poi e poi ripeto tornando in realtà al povero sinergio che se no sembra di voler far come via non blast qualcosa di genere no è dissing no 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 cazzo sì io non ci penso nemmeno no ma ragà ma se l'avete preso con un dissing siete rincoglioniti siamo stati ma anche a lui piacerà un sacco poi frusciante l'adora si inginoccherebbe quindi figurare no anche adora poverino se adora me allora vedi vedi vale il problema allora vedi e c'è il problema allora se adora me segue da una vita in un certo senso ma io poverino ripeto non poverino nel senso siamo di riporno e non è poverino sì 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 nel senso affettuoso io vedo che ci mette l'anima è quello che dice lo dice perché tenerone in senso quando uno teneramente quando una persona dice quello che pensa a me mi fa sempre piacere e a me se non ci capisce un cazzo di cinema dico sempre non è grave non è un problema io glielo dico che non capisce un cazzo di cinema non è un problema tanto se me lo dice a me non mi offendo mica tanto non è politica c'è a me non capisco un cazzo di cinema c'è cose peggio nella vita c'è la salute mi importa un cazzo del cinema in un certo senso alla fine però cioè il punto sta nel capire che la serialità c'è positiva e negativa assione di chi la fa punto e di come la innesti perché negativizzare completamente la serialità nel cinema è un errore anche se ripeto sono completamente d'accordo con Sinergo che se da domani scompare comunque la serialità a me non me ne frega un cazzo se fanno tutti i film che iniziano e finiscono mi fanno solo piacere in realtà per questo sì perché ho 51 anni fra un po' non ho vista di serialità per 45 anni posso anche farne un po' a meno non me ne frega un cazzo e poi sinceramente questo forse è un motivo per cui anche Sinergo non ne vuole più dopo dieci anni dopo dieci anni che la serialità è diventata la normalità ha un po' rotto i coglioni nel senso è vero che purtroppo adesso nel cinema si pensa sempre a far qualcosa dopo è rarissimo che si faccia un film che si chiude quindi quando si fa un grande film come The Creator che si apre si chiude e che è un grande film viene spazzatura più che altro Fede sono tre ore di compimento di Oglioni abbiamo un due anche Creator facciamo un'ora e mezzo un'ora e mezzo è bello un'ora e mezzo un'ora e mezzo no è così non ha paura che palle tre ore la tagliamo Spider-Man è andato così cioè Spider-Man è andato bene ma poi Spider-Man esiste da un fumetto che è seriale chiaro è impossibile pensare che non serializzino qualcosa che funziona soprattutto se scoprono che poi funziona si vede hanno lasciato la finestrina aperta poi si vedrà come va è andato bene e ora proseguo io preferisco averlo visto che non averlo visto perché per me è un film ecco io sarei completamente incazzato se veramente avessero detto ok non ha incassato quanto si voleva il 2 non si fa allora sono d'accordo che la serialità ha rotto i coglioni per ora sta andando abbastanza bene però ci sono film per esempio e qui posso essere solo d'accordo con Sinergo come Alita che si concludono anche a parte sua che lasciano non mi incassano quanto vogliono anche se ha incassato quasi 700 milioni è che ha incassato 300 no beh ha incassato di meno però ha incassato bene no sui 600 c'è arrivato tranquillo tranquillo e pulito tranquillo e pulito comunque è costato 100 120 di sicuro ne avrà fatti 500 cazzo ne ha fatti 404 e quanti ne avranno spesi 150 qualcosa ci avrebbe buttato un cazzo no ma no no sono rientati io sto dicendo che il problema che dice Sinergo è giusto cioè se la serialità comanda il cinema diventa un problema ma non si può giudicare tutta la serialità nello stesso modo è vero questo era solo quello che era no ma credo si sia capito alla perfezione mi sembrava che si dovesse poi il fatto che io sia d'accordo con lui che il cinema deve iniziare e finire a me se mi facevano Misery deve morire che a metà gli rompeva le gambe doveva aspettare due anni per vedere se lui cosa succedeva a Paul che scriveva o no Misery mi girava parecchie coglioni però si sta parlando di una cosa che vive di serialità quando si parla di cine e fumetti è chiaro che se ne fanno otto ne fanno otto se li funziona andrà sempre avanti io spero che rimanga alta la qualità e che riescono a capire che una serialità va gestita a livello cinematografico e non come se fosse un fumetto o come se fosse una serie tv e non si può mescolare tutte le ose per il resto sono pienamente d'accordo sul discorso che basta con questa serialità insistita basta col fatto che un film debba andare bene per farse ondo ci avete rotto i coglioni fatelo tutto tanto poi sono di un'idea scusatemi una volta che l'hai fatto c'è il primer se ondo e buttalo tanto al limite ci ripeti bene e ci hai fatto di sicuro non è che ci vai sotto quindi amen cioè proprio quello è il problema del cinema di oggi i produttori non hanno alcuna più intenzione di investire ma su niente e se adesso hanno addirittura paura di non fargli fare il due di questo perché aspettano che a cross the spider dopo il grande successo del primo e si sa che il secondo sarebbe andato benissimo c'è un po' anche di rincoglionimento da parte che fa i film basta cioè fateglielo fa e basta certo sono d'accordo con Darione cioè non è che mi puoi fare un film veloce vi è andato bene ora me lo fa in quattro mesi si deve venire a merda no no anche perché ammazzi ammazzi i lavoratori che già hanno sofferto perché se no veramente davvero usano come ha detto lui lei usa la Ischi fa prima mi pare qualcuno anche di loro ragazzi diventa tristezza vi devo salutare vi abbraccio saluto di te scusate le manate lunghi quindi un abbraccio no è lunghi vi voglio tanto bene che è una delle persone che parla di cinema con le quali parlerei molto più volentieri di tante altre sono molto d'accordo ciao ragazzi buonanotte ciao 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 ciao